Musica Amici di InvestiV, buongiorno e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano dedicato alle strategie operative di TopTrader Allora una seduta che in questo momento fa segnare una contrazione dello 0,53%, aria 25.262 punti per il nostro Futsimib Più in generale direi che quest'oggi a tener banco sono per quanto riguarda l'Italia ma non solo le operazioni di carattere straordinario Abbiamo avuto assicurazioni generali che è andata in Malesia a fare shopping, 262 milioni di euro spesi anche per rilevare le attività di AXA Sempre sul fronte delle operazioni straordinarie abbiamo avuto Luxottica, Essilor Luxottica Che potrebbe andare a stoppare lo shopping previsto della rete di Grand Vision E poi sempre sul fronte delle operazioni straordinarie di Piazza Affari Sono usciti i risultati finali dell'OPA di Carraro In realtà quelli provvisori, perché quelli finali avverranno tra un po' Nel quale la società che ha promosso l'offerta di pubblico acquisto ha centrato l'obiettivo Ora nei prossimi passaggi, il 28 giugno, verranno liquidate le azioni che sono state portate Che hanno aderito all'offerta, poi vi sarà la parte residuale per capire come si arriverà a quel delisting Che era l'obiettivo di questa operazione In questo scenario da segnalare, ed è un tema che peraltro avevamo accennato un paio di settimane fa Come a Tokyo, vi siano le società legate ai noli marittimi e comunque al trasporto delle merci Che stiano vivendo una fase davvero molto interessante e brillante Con i corsi azionari che sono balzati sui massimi a 10 anni Il motivo è presto detto Se abbiamo avuto, come è vero che abbiamo avuto nei mesi scorsi, il blocco legato a Suez Ricordavamo un paio di settimane fa di quella che è la situazione nei porti in Cina Seppur è una questione che passa un po' su tutta raccia qui in Italia E proprio il blocco dei porti e delle merci fa sì che stiano aumentando i noli Delle compagnie marittime che trasportano il materiale Da qui anche l'aumento delle guidance per le società del settore Quindi anche la corsa in borsa Comunque non mancano come al solito i temi da trattare anche quest'oggi Facciamo però il primo passo indietro e vediamo come sono state le strategie In gara ieri, tutte e due le squadre erano focalizzate sulla bunda tedesco In una direzione opposta perché la squadra azzurra era long Con l'operazione proposta da Nicola Para che però è andata in stop Specularmente invece la strategia proposta dalla squadra gialla con Tonicoli Puviani Era uno short che ha portato a una performance positiva Più 2,03% per Tonicoli Puviani Mentre meno 1,91% per Nicola Para Quindi il punto di sfida di ieri viene assegnato alla squadra gialla 61 punti contro i 63 della squadra gialla Su fronte delle performance ampio ancora il divario a favore della squadra azzurra Che guida la classifica con un risultato aggregato positivo Più 0,44% all'inizio della sfida Meno 7,07% Invece il risultato della squadra gialla Vi ricordo siamo ormai prossimi alla conclusione del contest Mancano infatti 10 giorni di calendario Meno di 10 sedute di borsa Per prima di arrivare alla chiusura della sfida fra i 3 della squadra azzurra e gialla A proposito di squadra azzurra Ora vogliamo sentirne proprio il capitano Pietro Riglia Ciao Pietro, buongiorno Ciao Riccardo, buongiorno a tutti Buon trading, eccoci qui Ascoltami, ieri si sono incontrati Mario Draghi e Angela Merkel Se ti ricordi negli ultimi giorni abbiamo un po' posto l'accento su questa questione legata Alla diffusione della variante Delta, quella indiana E soprattutto a questi europei di calcio Che vedono diversi paradigmi anche di contenimento della pandemia Secondo della nazione in cui si va E anche in termini di pubblico Basti pensare a quella Ungheria Che vede 60.000 persone poter partecipare a vedere la partita Però, ecco, però senza mascherina E da qui l'idea che dopo alcune settimane di via vai dei turisti Anche all'interno dell'area europea Forse andare a organizzare la finale in quella di Londra Non è proprio la scelta migliore se si vuole contenere il contagio Interessante che sia intervenuto in un tema calcistico-sportivo Direttamente il nostro primo ministro Ormai un primo ministro a tutto campo Quindi anche nello sport E lo dicevi tu ieri Quando parlavi della variante Delta Della pericolosità appunto Dei tifosi Di questi stadi appunto aperti Soprattutto nel Regno Unito Naturalmente lui ha gettato un'idea E da qui alla finale mancano diversi giorni Diversi due settimane, tre settimane credo Due settimane E la possibilità certo ci vuole anche un'organizzazione Però ricordiamoci quello che è successo con la finale di Champions League Anche lì si è spostata la sede Dalla Turchia credo al Portogallo Quindi bisogna stare attenti Bisogna guardare con massima attenzione A quello che appunto sta succedendo nel Regno Unito Perché noi abbiamo visto la scorsa settimana I contagi come sono balzati Sui massimi degli ultimi mesi E quindi senza dubbio Questo potrebbe essere un elemento negativo Che potrebbe appunto andare a giocare Contro la sedia appunto londinese Ricordandoci anche che la UEFA aveva detto Che dagli ottavi in poi Quindi nella partita secca Gli stadi venivano quasi aperti A metà della loro capienza Quindi si aumenta sempre di più E quindi la pericolosità Il timore che questi contagi possono salire Rimane sensibilmente alto Naturalmente Draghi come al solito È una persona che viene ascoltata Noi l'abbiamo visto la scorsa settimana E come dalla Spagna sono giunte voci E parole da parte appunto spagnole Che quando parla Draghi il mondo ascolta Quindi questo ricordiamolo sempre Quando qualcuno era e faceva Non era tanto contento Dell'arrivo di Draghi al posto Del famoso ex premier Quindi da questo punto di vista Un'idea Ma credo che è una notizia importante Sia E oltre a quello che con la Merkel La promozione che è arrivata Credo a pieni voti Per quanto riguarda l'Unione Europea Per quanto riguarda il nostro recovery fund Arriveranno nelle prossime settimane Già i primi soldi I primi miliardi Quindi questo sicuramente E ricordiamo che sono oltre 200 miliardi Quindi questi sicuramente saranno Quel volano che noi più volte abbiamo detto Capaci di far ripartire il nostro paese Che ormai da decenni è praticamente fermo E la figura di Mario Draghi sensibilmente È un qualcosa di importante Il pensiero va A quando questo governo Cederà il posto al nuovo Anche lì bisogna poi Guardare avanti E cercare poi con l'uscita di Mario Draghi Come verranno gestiti appunto E questa liquidità Però io non credo che la figura di Mario Draghi Sparirà alla fine di questo Di questo Di questo governo La figura di Mario Draghi Sarà sempre presente Quindi io credo che poi Sarà una figura molto più alta E quindi da questo punto di vista Possiamo stare Possiamo stare tra tutti Comunque dicevamo Mercati che comunque a livello generale Ieri hanno ritrovato La positività E noi ieri lo dicevamo Anzi durante il fine La scorsa settimana Che l'occasione che è arrivata dalla Fed Era un'occasione Le parole arrivate dalla Fed Erano un'occasione buona Per far correggere il mercato Ieri guarda casa Ha parlato un esponente Di primo piano Della Federal Reserve Williams Che ha detto che l'economia americana Ha ancora bisogno degli stimoli Che non è ancora il momento Di parlare di Ex strategy Però io credo che Una Qualcosa di importante Che va sottolineato E anche qui Credo che sia Un'importante novità Era Lagarde Perché anche ieri Lagarde è sembrata La colomba tra le colombe Anche ieri ha detto La banca centrale europea Ha ancora margini Per poter Far leva Su una politica Monetaria espansiva Mettendo anche L'idea di poter Ancora abbassare Il costo del denaro Quindi Una BCE Che va praticamente Dalla parte opposta Rispetto a quello Che comunque Sta facendo La Fed Due diverse Politiche monetarie Ma una Lagarde Che forse Anche Io credo che sia Anche stuzzicata Sollecitata Anche Dalla presenza Di Draghi Ora non è che puoi Credo Poter dire Come ha fatto Un anno fa In piena pandemia E ci ricordiamo tutti Il meno 15 Meno 16 Te lo immagini Te lo immagini Quando ha fatto Incavolare Cercando di stare un po' Su un registro Aulico Pure il nostro Sergio Mattarella Ti immagini Se Premier Fosse stato Draghi Probabilmente La chiamava Direttamente Durante la conferenza Stampe Diceva Che cosa Cribbio Stai dicendo E facendo E' vero E' vero Cioè Quindi la sua presenza Credo che sia anche Uno stimolo per loro Per poter appunto Poi naturalmente Si parla Di Noi abbiamo un Premier Che praticamente Credo che sia In questo momento In Europa Il 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 focus Per tutti Per tutti i paesi Quindi Da questo punto di vista Credo che ha la Garda Anche nella comunicazione E sia migliorata Naturalmente E se Lecidivi Poteva essere Veramente Pericoloso E quindi Con le parole Arrivati dalla Garda Abbiamo visto Questo ritorno Importante Degli acquisti E mercati Che anche in America Hanno ritrovato La via dei rialzi Ora vediamo Se si proseguirà Anche oggi E durante la settimana Ricordandoci Che questa è una settimana Importante Perché anche oggi Parla Powell E durante la settimana Parleranno Diverse esponenti Della Federal Reserve Quindi Ho l'idea Che la volatilità Rimarrà alta E sicuramente Saranno Le banche centrali Ancora una volta A dettare il ritmo Sui mercati Ascoltami Prima di lasciare la parola Ai nostri protagonisti Due cose Che vorrei sottolineare Perché parlavo In produzione Di questa puntata Di quanto I temi Di finanza straordinaria Siano sul banco Quest'oggi Il messaggero Cita Di dialoghi Avanzati Fra unicredit Del tesoro Per quanto riguarda Monte dei Paschi Di Siena Con Orsel Che starebbe Ponendo le sue condizioni Per rilevare La banca Più Antica Del mondo Dall'altra Ed euros Credo una cosa Positiva Per il capitalismo Italiano E più in generale Per tutto il sistema Paese Generali Che continuano La sua espansione Internazionale Puntando Sulla Malesia Non è una notizia Diciamo Nuova Nel senso Che il management Già aveva avvisato Preparato Il mercato E tutto Però Ecco Un conto Sono gli annunci Un conto Poi è Il risultato Finale Ma era quello Che dicevamo Anche ieri Quando parlavamo Di merger Acquisition Nei vari Settori Credo che Questo ci dimostra Oltre a Una liquidità Importante Che hanno Nelle casse Le varie società Ma anche Che i prezzi Attuali Sono ancora Prezzi 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 Buoni Perché Noi abbiamo Visto Questa stagione Di consolidamenti In vari settori Tu parlavi Di Carraro Ma abbiamo Visto Durante E questo 2021 Una Veramente Una campagna Di Opa Sui titoli Presenti Sul Sul nostro Mercato Quindi Questo dimostra Appunto La bontà Ancora una volta Di molte aziende La liquidità Presente E per tornare A unicredit Credo che Forse Alla fine E Quello Che tu stesso Poi più volte Detto Ovvero Unicredit MPS Cercando Di trattare Appunto Con Il Tesoro Ricordiamo Si va A prendere E una Qualcosa Che Ricordiamocelo Più volte Non è che Sia un qualcosa Visto Positivamente Da parte Gli azionisti Però Prima o poi Questa Quest'unione Va fatta E poi Dalla parte Opposta BPM BPR E quindi Credo che Lì Inizierà Veramente Il consolidamento Nel settore Bancario Che sicuramente Farà bene Al nostro Indice principale Che ha bisogno Appunto Di banche In forma Di banche Positive Di banche Forti E quindi Credo che Questo 2021 Posta Veramente Di dare Finalmente Slancio A questa Campagna Di consolidamento Nel settore Nel settore Bancario Ti chiudo Dicendo Che Io credo Che In questo Momento Molti Sono i Rumors Anche Sul nostro Mercato Di aziende Che sono Appunto Vicine A fare Operazioni Straordinarie Anche Tra le Midcap E quindi Conferra Veramente Come abbiamo detto Noi Più volte I prezzi Attuali Sono ancora Non sono prezzi Ancora Folli Ma Credo che Sono ancora Su alcune società Prezzi Veramente Interessanti Altrimenti Non si spiegherebbe Come molte Poi considerando i prezzi A dove vengono Alcuni Alcuni titoli Ricordiamoci Carraro Ricordiamoci Panaria Venivano da prezzi Molto molto distanti Rispetto a quelli attuali E quindi Questo ci dimostra Come ancora Sul nostro mercato Ci sono prezzi Ottimali Dove Altre società Appunto Si preparano Appunto Ad acquistare Quello che mi fa ridere Di Carraro Che aveva lanciato L'OPA 2,40 euro Per azione Il mercato Non era contento Hanno fatto Uno slancio Oltre l'ostacolo Hanno portato L'offerta A 2,55 euro Per azione Però Come un dividendo Sai qual è Il dividendo Anno Che pagherà Carraro 0,15 centesimi Praticamente È il gioco Delle carte Mi viene da dire Sì guarda Secondo me Questo è un po' Prendere in giro Gli azionisti Anche perché Chi è stato azionista Tutto l'ultimo anno Quello che ha vissuto Peraltro Dire Sì te l'aumento Di 15 centesimi Però non prendi Il dividendo Che casualmente È di 15 centesimi Vabbò 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 Questo sono I capitalisti italiani Che caratterizzano Di solito Il mercato Per fortuna Vi sono anche Altri tipi Di management Allora Andiamo E anche oggi Ci siamo fatti voler bene Andiamo a vedere Le strategie Oggi Per la nostra squadra E abbiamo Carlo Vallotto Noi naturalmente Dopo una settimana In cui le materie Prima hanno visto Pesanti di bassi Carlo ci presenterà Una strategia Però lascia la parola A lui Che ci illustrerà Su quale asset Andiamo Motivazione Ma soprattutto Target e stop Ciao Carlo Ciao Pietro Ciao Buongiorno Sì Settimana molto pesante Per quanto riguarda Le materie prime Proveniamo addirittura Dalla scorsa settimana Abbiamo visto Un forte Fortissimo Ribasso A seguito Un po' Delle Diciamo Delle parole Di Di Powell In primis E poi un po' Di tutti Altri Appartenenti Alla Fed Insomma Quello che Ha Spaventato O tranquillizzato Dire che si voglia Insomma Nel mercato È stata Diciamo La mancanza Di continuità Per quanto riguarda L'inflazione Ovvero La Federal Reserve Insiste Con questa Diciamo Indicazione Che l'inflazione Sarà È determinata Dai famosi Colli di bottiglia Quindi non è Non è strutturale E questo Ci permette Di Aver In qualche modo Compreso Insomma Un ribasso Delle materie Prima Dall'altra parte Però Quasi tutti Concordi Che naturalmente Per quanto riguarda Proprio l'oro E oggi ci concentriamo Proprio sull'oro Un ribasso Così Così Violento Così Approfondito Certamente Insomma Non ce lo aspettavamo Insomma Non era Non era Nell'aria In qualche modo Un oro Che comunque Rimane In un trend O meglio Ancora Ritorna In un trend Ribassista Iniziato Ancora Dai massimi Dello scorso Agosto A 2067 Rimane all'interno Di un canale Ribassista Al di sotto Dei 1900 Dollari Insomma È una situazione Abbastanza Importante Questo Ha impattato Anche perché Una volta Rotti i principali Supporti 1850 1800 E 1800 Dollari Insomma Dopo Si sono Aperti A cascata Insomma Gli ordini Di sell stop Materie prime Come Hai Ricordato Insomma In apertura Molto deboli Ancora Un po' Tutte Insomma Sotto tutti i fronti C'è questa debolezza Determinata Anche un po' Da questa Diciamo Braccio Braccio di ferro Della Cina Che vuole In qualche modo Frenare La speculazione E rialzo Appunto Delle materie prime In primis Il rame Appunto Che abbiamo visto Correre Molto alto Per quanto riguarda La strategia Odierna Facciamo Un Abbiamo Facciamo Un'operazione Short Intraday Naturalmente Quindi Ingresso A 1777 Stop A 1779 E target A 1774 Quindi Questa è una strategia Oggi Nella giornata di oggi Sembra ancora Continuare Questa debolezza E quindi Cerchiamo di seguire Ancora una volta Il trend Grazie Carlo Naturalmente Concordo con te Nel movimento di ieri È un normalissimo Rimbalzo tecnico La struttura grafica Del gold Si è veramente Deteriorata Nel corso Della scorsa settimana Abbiamo visto Una delle peggiori settimane Degli ultimi Degli ultimi mesi Post Post Covid Per quanto riguarda Per quanto riguarda Il gold Anche in scia Alla rafforzamento Del dollaro Quindi un'operazione Che ci sta Perché credo che Si rimane deboli E le possibilità Andare a rivedere Quei famosi supporti A dove poi iniziò Il recupero del gold Sono 1740 1745 Sono veramente tanti Da questo punto di vista Quindi un'operazione Che ci sta Che potrebbe anche Essere un'operazione Anche multidei Ti ringrazio E ti lascio a Riccardo Si ciao Carlo Ben ritrovato Allora Volevo farti Un paio di domande Che in realtà Sono anche correlate Tra di loro Non so se hai avuto Modo ieri Di sentire Quelle che sono Sette le parole Di Michael Burry Circa Quella che era Una sua visione L'imminenza Del più grande Crash Dello scopio La più grande Bolla speculativa Della storia Complice Quello che è stato L'andamento Dei prezzi Dei diversi Asset class L'ingresso Delle banche centrali Insomma tutto Quello che sappiamo Ecco da qui Vorrei chiederti Uno Cosa ne pensi E due Che ruolo Ha tipicamente Loro Quando vi sono Dei mercati Fortemente Dicendenti È un asset class Che potrebbe Diciamo Salvarsi Oppure potrebbe Essere messa Sotto pressione Qualora Il clima Sui mercati A livello generale Perché poi Michael Burry Parlava di azioni Obbligazioni Insomma Asset class To cure Cryptovalute Non è che ne salvava Una in particolare Ecco Loro potrebbe Riuscire a salvarsi O andrebbe a pagare Dazi e pegno A sua volta Diciamo che l'oro Nonostante tutto Ha una vita Ha una vita Indipendente Chiamiamola così Insomma Chiaramente Rissente Negli ultimi Negli ultimi 10-15 anni I mercati Sono profondamente Cambiati Nel senso che Sono stati Istituiti Tantissimi Tantissime Formule di investimento Quindi Diciamo Strutture di investimento Non più Sui mercati Proprio fisici Quanto sui mercati Famosi cartacei Quindi Naturalmente Loro potrebbe Rissentirne Da questo punto di vista Però Ecco Diciamo che Nel lungo periodo Insomma In qualche modo Loro se l'è sempre cavata E quindi Credo che Il mercato Adesso Naturalmente Abbia Sia sotto Una tensione Estremamente forte Insomma Abbiamo visto I mercati azionari Che sono continuati Hanno continuato Nella loro crescita Negli ultimi 12 mesi Anche un po' A mio avviso Un po' Una crescita Non totalmente Giustificata Ovvero Se guardiamo Il Nasdaq I tecnologici Potrebbe essere Chiaramente Stata giustificata Da una Tendenza Di increscita Della richiesta I sistemi conduttori Di pc Di smartphone Di tutto quello Che può essere Insomma La connettività Tutto ciò Che è collegato Alla connettività Dall'altra parte Però A mio avviso I mercati Hanno corso Diciamo Hanno inanellato Sempre Maggiori massimi Per quanto riguarda Adesso Le criptovalute Abbiamo visto Appunto Crescere Anch'esso Anche il bitcoin Sopra i 68 mila Poi riviscendere Eccetera Eccetera Con tutti i mercati Anche le materie prime Non sono stati immuni Le materie prime Diciamo che Resistono Leggermente Di più Però chiaramente Anche queste Potrebbero essere In una bolla Da più parti E da tempo Stanno cercando Di Diciamo Di Indovinare Se ci sarà Questo Super ciclo Delle materie prime Al momento Insomma Chi Sembra essere Abbastanza ben posizionato Al di là Dei movimenti giornalieri È il petrolio Che in qualche modo Sembra risentirne Positivamente Di questa uscita Diciamo Da questo tunnel Qui Quindi ecco Spesso Magari Commentatori Di mercato Cercano Di Anche Di attirare Un po' L'attenzione Forse In maniera Esagerata Quindi Per rispondere Alla seconda Parte della tua domanda Io credo Che l'oro Abbia Comunque Una Capacità Di ripresa Molto elevata E soprattutto Sia in grado Naturalmente Di contrastare Quelle che sono I sentori Dell'inflazione Poi Al di là Delle Fluttuazioni Di prezzo Che sono Determinate Diciamo Dalla Dalla Vendita Dalla pesante Vendita Di contratti Ad esempio Una cosa Molto interessante Che molti Investitori Molti fondi Di investimento Stanno smontando Le loro Posizioni Le proprie Posizioni Sul settore Dei metalli Proprio per portarle Nel settore Dell'energia Che ritengono Possa essere Più Appagante Rispetto Più Performante Rispetto A quello Che sono I metalli Un petrolio Ad esempio Che hanno Dato dei target Price 85 90 100 Dollari Insomma Quindi Ecco C'è questa Rotazione Settoriale Che sta Anche Stringendo Al ribasso I metalli Quindi Il mio pack Sull'oro È un pack Nel senso Di pack Oppure Può Beneficiare Di questa Debolezza Dell'oro Degli ultimi giorni Più in generale Direi anche Degli ultimi mesi Ma sai Io credo Che questi Io sono fermamente Convinto Che questi Siano investimenti Di lungo periodo Non per giustificare Ripeto Le fasi ascendenti O discendenti Tuttavia L'oro Nel lungo periodo Insomma Diciamo Che sostanzialmente Ha sempre Fornito Dei ritorni Positivi Lungo periodo Si parla Quindi Di 10 15 20 anni Quindi diciamo Che è un investimento Di lunghissimo periodo Tra le altre cose Tant'è vero Che viene comunque Sempre paragonato Ai beni immobiliari Quindi non si compra Una casa Per rivenderla Il giorno dopo Salvo eccezioni Naturalmente Quindi ecco Sono degli investimenti Che sicuramente Stai tranquillo Che nel lungo periodo Nel lungo periodo Avrà il suo Avrà il tuo beneficio È ovviamente Una battuta Prima che arrivino Querele O altro Non si compra Una casa Per rivenderla Il giorno dopo Quando succede Di solito Interviene il report Con delle Indagini E delle inchieste Che hanno Protagonisti Anche insomma Elementi di spicco Della politica nazionale In particolar modo Lombarda Allora Carlo Grazie mille Per essere stato Con noi Come sempre È una piacere A investivi Buon trading Grazie a voi Buon trading a tutti Ciao Riccardo Ciao Carlo Ciao Pietro Un saluto Un saluto anche a te Pietro Chissà che mi riferivo In questo riferimento Peraltro ieri Che siccome Un paio di semane fa È finito Report È iniziato a dare Delle repliche C'è una puntata Sulla Coca Cola Che insomma Non era male Diciamo che la toccano Sempre piano 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 Più di te La toccano piano Sono anche molto bravi Bisogna dire Molto 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 bravi Pietro Grazie mille Buona giornata anche a te A domani Grazie a te Ciao a tutti A domani E allora Dopo aver fatto Il punto Su quella che è la strategia Proposta dalla squadra azzurra Rappresentata quest'oggi A Carlo Vallotto Vogliamo In quella di Salò Per sentire la strategia Della squadra gialla Protagonista Eugenio Sartrelli Ciao Eugenio Buongiorno Ciao Riccardo Buongiorno Ma stiamo Siamo sotto Come squadra gialla Siamo sotto Di 7 punti Virgola 5 Arrotondando Ma lo dovrei Perché io devo Devo sapere prima Queste cose Perché allora Alle volte azzardo di più Se dobbiamo recuperare Azzardo di più Eh noi abbiamo pagato Stavolta invece è stato Quel bacino corto Eh Abbiamo pagato Pena Un paio di trade Che Insomma Sono proprio due Quelle operazioni Che ci hanno Affossato Non farò nomi e cognomi Non dirò performance Ah beh succede Dai Sì sì A quello Un'epoca In quel modo È stata Obiettivamente Anche un'operazione Sfortuna Perché era Messa abbastanza Distante Dai prezzi Ed era un long Sul petrolio E Però ha fatto Una sciacquata Quel giorno E ha preso Ingresso E stop Con una leva Anche bella Frizzante Allora Innanzitutto Beh Ho detto Salò E penso Quello che è avvenuto Nel fine settimana Insomma Un po' così Eh sì Tra l'altro Conoscevo E' stato brutta Veramente Sì Sì Era molto conosciuto Perché per il lavoro Che facevamo E' stato Un bravissimo Ragazzo Eh guarda Pesante Come notizia Insomma Direi che Uno non si aspetta Che succedano Queste cose Quando prendere Una barca Per andare A farsi Un giretto Però Cerchiamo Di Di andare avanti E vediamo Quindi quella strategia Che hai detto Conservativa Veniamo da Ho visto il sottostante Che ha selezionato Il Bund Lo avevamo anche ieri In sfida E ci ha portato bene Speriamo che Sì sì Era uno short Proposto da Tony Abbiamo fatto un più 2,03% Magari riusciamo anche oggi A A mettere Un po' di fine in cascina Sì Avrei potuto farla Un po' più azzardata Però invece Questa è molto conservativa Perché è uno stop stretto Un profit Che Praticamente Doppio Dello stop Invece Più spesso Io I miei stop Non sono Da tanto più Tanto differenti Dal Profit E Soprattutto Rispetto Agli ingressi Che faccio più spesso Sui breakout Di livelli Di prezzo Prezzo Volumi Tempo Stavolta L'obiettivo è O l'acquisto O si riesce Ad acquistare Sulla debolezza Oppure Non si fa il trade Punto Cioè O arriva quel prezzo È un trade long Raggiunge quel prezzo Si entra long E poi si vede Se va bene Se no ci si prende Uno stop stretto Se no Se non prende quel prezzo Si passa la giornata In attesa E la logica È dal punto di vista Ciclico Abbastanza stretta Se andiamo a vedere I grafici Che ho inviato Come al solito Io Cerco di capire Quella è la struttura Prezzo e tempi In alto È il ciclo settimanale Che si sta prolungando Ovvero Come idea Sembrava che potesse durare Vedete la linea bianca La linea bianca A un certo punto Finisce Con una C'è una linea verticale E dopo C'è una fase Con la linea bianca sale Questo è l'andamento ciclico Prospettico Ecco lì Dopo 6 giorni 12 ore Dall'inizio L'inizio è stato il giorno 10 Scusate Ogni tanto giro la testa Perché ho il computer Biografici dall'altra parte Il giorno 10 Intorno alle 14 30 14.40 È iniziato il ciclo Io mi aspettavo Che finisse Dopo 6 giorni Il ciclo settimanale Che dura tra i 6 e 8 giorni Di borsa aperta Dopo 6 giorni 12 ore Quindi 7 giorni sostanzialmente Perché io tengo buone Solo 14 ore Mi aspettavo che finisse Invece si sta prolungando Quindi a maggior ragione Io penso Che a breve Finisca sto ciclo Finisce sto ciclo E me lo aspettavo Proprio stamattina Sui livelli di prezzo Che vedremo fra poco Ovviamente Faccio delle ipotesi Io non so Su che livelli di prezzo Troverà un supporto Questo lo lasciamo Ai guru del giorno dopo O dell'ora dopo O del minuto dopo Ecco lo lascio a loro Loro lo sanno Io non lo so Opero solo su delle probabilità Che possa avvenire qualcosa Quindi mi aspettavo Su base probabilistica Che stamattina Trovasse un minimo E a questo punto Devo capire Su quale minimo L'altra cosa importante Devo vedere Se il ciclo inferiore Cioè il ciclo giornaliero Mi conferma Questa cosa Che sto vedendo Sul ciclo settimanale Cioè un ciclo settimanale Che si sta prolungando Ma che a breve Può trovare Una sua conclusione E allora andiamo Sul grafico Sotto Sul grafico Esattamente questo Che è il ciclo giornaliero Ebbene questo ciclo Era iniziato intorno Alle 10.20 di ieri Quindi esattamente Un giorno Solare Da ieri O esattamente 14 ore operative Perché io prendo Solo per buono Dalle 8 alle 22 Quello che succede Tra le 2 e un quarto E le 8 di mattina Non lo considero buono Per il mio software Che qui vedete Rappresentato Quindi la linea verde Sono i prezzi A un minuto Dalle Tolto appunto Quelle della notte Che è partito Quindi alle 10.17 E anche qui Io mi aspettavo Un ciclo corto 11 ore 40 E invece Si stava prolungando Quindi mi aspettavo Che tra le 10 e le 11 Cioè adesso Trovasse un minimo E forse Ve lo sto dicendo Adesso ve lo dico in diretta Forse l'ha trovato Forse Perché ha fatto un minimo A 171 e 67 E adesso Lo stanno andando a ritestare Però potrebbe fare Ancora un pochettino sotto Quanto sotto? E a questo punto Andiamo a vedere Con l'analisi volumetrica Che io vi propongo Su analisi volumetrica Su grafici normali Ma normalmente Io l'analisi volumetrica La faccio su base ciclica Perché il mio software Mi consente di fare Un'analisi Prezzo Tempi Anzi Tempi Prezzi E volumi Però per farvela capire meglio Lo metto su grafici normali E qui andiamo a vedere L'analisi volumetrica Che vi ho messo Vedete Ho messo tre linee Tratto punto Guardate quella Non quella più bassa Esattamente No quella più sotto Quella sotto A 171 Eccola lì Quella lì Vedete che lì c'è un forte livello di volumi Quei livelli di volumi È poco sopra È circa 171 Adesso lo vado a riprendere anch'io È circa 171 E 60 171 58 Ebbene Io mi aspetto Che lì trova supporto Il mercato era 171 178 Quando ho dato questo grafico Adesso ripeto È sceso È sceso un po' di più Quindi 171 60 171 59 Ma aspetto Che trovi supporto Magari puoi fare ancora qualcosa in più E io ho detto Va bene 171 59 Avrei potuto fare anche 171 60 Ma per un pezzo Perché so che alle volte Vanno a testare Le rotture O mezzo 171 59 Lì faccio Un acquisto Sulla debolezza Acquisto Non vendita Perché il tempo È finito Il tempo del ribasso Questo me lo dicono i cicli Ovviamente su base statistica Sempre Stop loss Dov'è che mi ricredo Del fatto Che il mercato Invece può Recuperare Dal livello Di 100 Dal minimo Intorno a 171 59 Esattamente Sul livello Tratto punto Poco sotto Il livello Tratto punto Che è a 171 40 Sempre un tic sotto Preferisco 171 39 Se il mercato Deborda lì Guardate Non ci sono più volumi Quindi potrebbe Accelerare A ribasso E lì Si esce Si accettano 20 punti di stop E si sta tranquilli Io invece penso Che il mercato Non arrivi lì E che se Mi prende il livello Di acquisto Invece Abbia un recupero Tra l'altro Avrebbe tanto tempo Di recuperare Tempo vuol dire Spazio Quindi Minimo sindacale E quel livello Che vi ho messo Lì 172 Quindi per me Proprio il minimo Che può recuperare E 172 Se però avessi saputo Che dovremmo recuperare Magari Avrei messo Il profitto Un po' più in alto Magari A 171 E 20 Scusate 172 E 20 L'avrei messo Però volendo Stare tranquillo Ho visto Ho detto Che come stop loss Abbiamo detto 171,59 171,39 Sono 20 punti Profit 172 Sono 41 punti Ho un profit Che è il doppio Dello stop loss Ho detto Mi accontento Ma si poteva Stavolta tranquillamente Mettere a tre volte Il profit Però ormai Ho dichiarato questo Quindi 172 Secondo me È un profit Ragionevole Anzi È quasi Addirittura Minimale Per quello Che mi aspetto Di questo mercato E un genio La strategia Non si è ancora Attivata La strategia Non si è ancora attivata Possiamo sempre Modificare Il target Ah possiamo Certo Allora se possiamo Sì sì Cioè Siccome Tanto non si è ancora Attivata Ed è un target Insomma È tutta una strategia Che hai spiegato Ma che si può Assolutamente ancora Sviluppare Nulla osta Di andare A mettere 172,20 Se si vuole Guarda Facciamo qui 172,15 Che ha qualche probabilità In più Visto dal punto di vista Uno Allora Aspetta che vado Direttamente a cambiarlo Perfetto In diretta Eccoci qua Fatto Così qualcosina Messo il nuovo livello Perfetto Ascolta una cosa Ieri chiedevo Siccome anche Tony Aveva fatto il Bund E anche Nicola Parra Aveva fatto il Bund Chiedevo Se notava Dei movimenti tipici Di quando interviene La Banca Centrale Europea Sul Sul mercato E so che anche tu Stai seguendo Da Da un po' Con un certo Focus Effort Il Bund E volevo legarmi Proprio A questo Tuo seguire Il Bund La presenza Della Banca Centrale Europea Ai volumi Quanto aiuta L'analisi Dei volumi Per capire Anche dove Interviene La Banca Centrale Europea E soprattutto Se scompagina Qualche Regola passata Con questi Acquizi Che poi vengono fatti A prescindere In alcune occasioni No Aiuta molto Perché cosa si vede Sostanzialmente Intanto si vengono Dei prezzi Che trovano Supporti Sempre molto vicini E Sui supporti Ci sono sempre E anche andando a vedere I book Ci sono sempre Livelli Livelli di acquisto Ricordiamoci che La Banca Centrale Non interviene Sul future Ovviamente Interviene sul sottostante E gli arbitraggisti Che sono gli hedge fund Vanno a fare Degli arbitraggi Ovviamente Delle triangolazioni Sostanzialmente E 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 poi portano A A un Future Che tende Che tende a salire Cioè a seguire il sottostante Il sottostante Che è appunto Il Bund Poi sarebbe da capire Tecnicamente come è fatto il sottostante Perché sarebbe un po' complicato Ma Lasciamo perdere questa parte tecnica Da cosa si vede? Si vede perché Cioè Ha dei supporti Cioè sale I supporti sono piccolissimi Cioè Fa delle correzioni Molto brevi E E E E Si vede che Accompaiono subito Subito Grossi volumi Volumi In acquisto E Sulle piccole correzioni E il mercato quindi procede per linea retta Cioè procede a rialzo per linea retta Quindi vuol dire che lì La La E lo fa Non per un giorno Perché di solito la banca centrale Non interviene un giorno solo Lo fa per qualche giorno consecutivo E lì vedi proprio quel trend All'inverso Quando invece Il mercato ipotizza che la banca centrale interverrà Poi magari c'è anche una visione moderatamente short Quindi ci sono livelli di vendita Però la banca centrale non interviene E allora la vanno a stuzzicare Dicono dai Vienimi a comprare questo E la banca non entra Allora lì hai magari due o tre giorni Che il mercato invece ha una linea Obliqua verso il basso E lì non interviene Però più spesso la si vede sul rialzo Sul rialzo Cioè quando interviene Hai proprio una serie di giorni In cui interviene Perché ricordiamoci Che la banca centrale È obbligata Sottolineo Obbligata Per contratto Ad acquistare Tot bond governativi Nell'arco di un mese Proprio deve farlo Tot bond olandesi Tot bond del Belgio Tot bond dell'Italia Della Spagna Della Francia E tot bond È tutto legato Ad i rapporti anche economici Però non è detto Che lo faccia Un certo giorno Piuttosto che un altro Quindi anche Ci sono proprio degli hedge fund Che tengono conto di questo Perché non sanno Poi quanto la banca centrale Però fanno delle deduzioni In base al mercato Come si è comportato E quindi sanno Che per esempio Mancano cinque giorni E la banca centrale Dovrebbe acquistare ancora Che ne so Cinque miliardi di bund E allora cosa fanno E aspettano il long Questo però Lo possono fare I suoi hedge fund Che hanno delle informazioni Privilegiate E hanno anche Strumenti più sofisticati Per andare A individuare Queste strutture Di prezzo Il day trader Un'altra manipolazione legale Dove manipolazione Non do un'accezione Un'accezione illegale È una manipolazione legale Del mercato All'interno delle regole È indirizzare il mercato In base alle esigenze Superiori E' una gestione economica Di un'area Come l'Europa È una gestione Del debito È una gestione Dell'inflazione Anche sostanzialmente Politica monetaria Riassumendo Sì è una politica monetaria Che comunque serve Perché pensate Se non ci fosse stata La banca centrale europea Che governava La pandemia Per paesi come Il Portogallo L'Italia La Spagna La Grecia Ma anche per gli altri stati Più forti Pensate cosa sarebbe stato Cioè La banca centrale E il governo europeo Ha fatto un piano Marshall Se non ci fosse stata L'Unione Europea Dovevamo ancora aspettare Mamma America Che ci faceva Il piano Marshall E chiaramente Mamma America Poi avrebbe chiesto Avrebbe chiesto Un ritorno economico Dall'altra parte Invece ci siamo salvati Da soli Questo è un grande Esempio di maturità Di maturità E di forza Dell'Unione Europea E ne uscirà Molto più forte All'Unione Europea Da questa pandemia Molto più forte Parlo politicamente parlando Ed economicamente parlando Sorrido E ti provoco Quando dici Avremmo dovuto chiedere Ancora aiuto A mamma America Al netto Che poi all'epoca Vi era Donald Trump E sappiamo Insomma Rispetto Anche a questi aiuti La prima potenza mondiale Non è mai stato Così Aperto Però Ecco Il sorrido Ti provoco Dicendo O altrimenti Non si poteva chiedere L'aiuto Alla Cina Che invece Sarebbe stata Assolutamente Disponibile Per gli interessi Economici Pensiamo Alla via della seta Le comunicazioni All'acquisto dei porti In Grecia Come è avvenuto Quando A suo tempo Il paese ellenico Ha avuto Le difficoltà Legate alla gestione La sostenibilità Del suo debito Insomma Quello poteva essere La contro Controltare Forse La soluzione Che si è notata La migliore Meglio la rovina Piuttosto che la Cina Meglio la rovina Che fa anche Cioè Ovviamente Parliamo di una dittatura Parliamo di una dittatura Tenete docche Hong Kong Guardate cosa sta succedendo In Hong Kong Ecco Il prossimo è Taiwan È solo questione di anni Ma il prossimo è Taiwan Io non ce l'ho assolutamente Quei cinesi Col governo cinese Sì però Perché il governo cinese È una dittatura E si comportano Da dittatori Dove l'economia È solo uno strumento Non è un fine È solo un mezzo È solo un mezzo Per un'egemonia politica Invece L'egemonia americana È soprattutto basata Sull'economia Quindi Il vantaggio è loro Però un po' di vantaggio Lo do anche a te È su Hong Kong Su Hong Kong C'è una diaspora Verso C'è una diaspora Verso Singapore Tu sei giornalista Quindi hai più Sì no Sto pensando Sto pensando Anche la borsa Verso Singapore Di come Negli ultimi anni Si è rimasta Un po' indietro Però Nelle ultime settimane Ha dato qualche segnale Di risveglio Anche Hong Kong Vi è ovviamente Una questione Politica Vi è forse Anche una mancanza Di leadership Su scala Internazionale La fortuna Mi viene da dire Che allo stato attuale Delle cose Almeno da un punto di vista Dell'esercito La Cina non è ancora Una potenza Certo Noi stiamo parlando Di 5G Ma loro stanno già sviluppando Io sono già da un paio di anni Che lo stanno facendo Il 6G Come nuova generazione Delle comunicazioni E la più grande differenza Tra il 5 e il 6G Dal punto di vista prestazionale È Proprio la declinazione Che si può usare Del 6G Sullo scala militare Tra droni Non droni Controllo Da remoto Delle forze Militari Insomma Vi sono diverse Accezioni su questo Che forse È un po' più preoccupante Perché farebbe fare Uno step Evolutivo A tutto l'esercito Cinese Che potrebbe A quel punto Mettere un po' di pressione Anche a quegli Stati Uniti Che Numericamente E tecnologicamente Rappresentano La leadership Da decenni Su scala Internazionale Perfetto Un'ultimissima cosa Che vorrei chiederti Eugenio Sull'Italia Sua nostra piazza affari Perché stiamo andando In chiusura Anche di questo mese Di giugno Ma mi sembra Una piazza affari Che sta dando Dei segni di maturità Che vanno al di là Di quello che può essere L'andamento Delle quotazioni Però insomma Vedo Un approccio costruttivo Ossia Sarà anche forse Questa Guida di Mario Draghi Che obiettivamente Abbiamo sentito Anche le parole Della Spagna Nei giorni scorsi Trovano Un consenso Generale Unanime Sì I motivi Sono due Uno È un governo Di Mario Draghi Non abituiamoci Però a che è un governo Tecnico E finché ci sono i soldi Sono tutti bravi amici Ci vogliamo bene Quando però i soldi Incominceranno A essere distribuiti E quindi non ce ne saranno Più tanti da distribuire E poi non saremo più Tutti amici Vi ricordo la fine L'avevo già detto In questa In questa trasmissione Guardate che Quando è andato su Monti Aveva una I sondaggi Aveva un'approvazione Superiore Di due punti percentuali A quella di Draghi Quando è andato su Monti Poi al di là degli errori Che ha fatto Monti Non voglio parlarne Sappiamo Lì non c'erano soldi Da spartire Anzi c'erano tassi da fare Sappiamo com'è andata Quindi i governi tecnici Vanno bene Finché ci sono i soldi E l'Italia sta salendo Perché c'è Draghi Perché è credibile Come era Monti Credibile per l'Europa E perché ci sono Tanti soldi da spartire Arrivano tanti Sai che non riesco A essere d'accordo Su questo Non ce la faccio Eugenio A fare un paradismo Però i dati erano quelli La promozione su Monti Fra Monti e Draghi Nel senso Al netto che io sono sempre Stato favorevole A Mario Draghi Perché lo reputo Un fenomeno diverso È il discorso Per quanto riguarda Il mio ex rettore Che insomma Non ho mai stimato Molto E mi domando Insomma È vero Doveva fare Tagli Eccetera Però se andiamo a prendere La formula Del PIL Dell'aggregato Della domanda aggregata E andiamo a vedere Quelle che sono state Le scelte Che aveva fatto Tra taglio La spesa pubblica Taglio di qua Taglio di là Era difficile Ipotizzare una crescita Una ripresa del paese Ma se scende il PIL È difficile Che migliori anche Il rapporto Tra il debito E il PIL Però insomma La differenza sta anche In un concetto Eugenio Prendo Accetto l'incarico Ma voglio essere Nominato Senatore A vita Accetto l'incarico E per fare il premier Non mi faccio pagare Questa è la differenza Tra le due persone Sì Ma al di là delle persone Io facevo solo La questione Del governo tecnico Tutto qua Ha chiesto dall'Europa Come è stato chiesto Quello di Montell'Europa Quello di Draghi Di fatto è stato suggerito Suggerito dall'Europa E questo Sono le Le vicinanze Solo che là L'Europa che deve Tagliare Qui l'Europa Ha chiesto di spendere bene Ha voluto Draghi Perché si vuole Spendere bene E quando ci sono i soldi Credo che anch'io Potrei essere Un buon presidente Del consiglio Quando ci sono Da elargire soldi Non come Draghi Ma quando c'è da dare i soldi Non è difficile Avere l'approvazione Tanti Eugenio Siamo in Italia E sappiamo anche Cosa succede Quando c'è tanti soldi Si danno i soldi Ma tanti li rubano Ma le dai la pioggia a tutti Sì La speranza è che Non li rubino Soprattutto perché Ruberebbero il futuro Alle nuove generazioni Che poi si troveranno A pagare il debito Dobbiamo parlare di una cosa Il SIA Training Day Assolutamente Vai Ecco così Visto che ci sarai anche tu Il 24 Il 25 Andate sul sito www.siat.org C'è questo SIA Training Day Campus Non potete partecipare Perché ancora Per le norme Anticovid Però ci sono Il giovedì pomeriggio E venerdì mattina Tre sale Con tanti relatori Ma tanti So ci siete Ma molti altri Andate a vedere Vi potete scrivere E vedere online Tutte e tutte Le conferenze E Molto interessanti Si parlerà Ovviamente di trading Di credito valute Parzialmente anche Di investing E di molto altro I relatori Più importanti Italiani Anche qualcuno Internazionale Mi ricordo che c'è Dan Valcu Se non ricordo male E poi qualche altro Internazionale Si parlerà anche di Finanza comportamentale E molto altro Dan Valcu Peraltro che ho Moderato Qualche anno Fa In un evento Organizzato Anche con Francesco Caruso Con WeBank Ottimo Trader Di origine rumena Ottimo Parla anche Italiano Un po' parla italiano Ecco l'altro Mi sono andato a vedere David Keller Che lui fa Praticamente E' esperto Di analisi comportamentale Che utilizza anche Nelle gestioni David Keller Quindi qua Stiamo vedendo Il sito di Siat E qui trovate tutti i dettagli Trovate tutto Iscrivetevi E partecipate Perché Vale la pena Vale veramente la pena Iscrivetevi E partecipate Non solo A questa manifestazione Ma in generale A le manifestazioni Di Siat Perché Perché è la base Per iniziare Ad affrontare Il mercato In modo serio E professionale Non vengono promessi Guadagni Stratosferici Anzi Probabilmente Si pone più l'accento Su quello che è Il rischio di perdere Ma Ecco Siat è la società Che raccoglie Gli analisti Tecnici Italiani E ha Le figure Come per esempio Quella di Eugenio Che sono sul mercato Da molti 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 anni Decenni Ormai Di Ecco Accompagnare Nella crescita Nella crescita Nello sviluppo Professionale Le nuove eleve Nessuno nasce imparato E quindi Imparare anche Da quelli che sono stati Gli errori In passato Di alcuni Soci Siat Non perché abbiano Sbagliato Volutamente Ma perché sul mercato Capita magari Di non leggere Esattamente bene Una fase La vita è fatta Di step evolutivi Loro mettono A fattore comune L'esperienza Che hanno maturato Nel bene E nel male Per le nuove generazioni Quindi ecco Sostenere Seguire gli eventi Siat È un must To have Per tutti gli amanti Del trading Italiano Eugenio Bene Che dirti Ci vediamo Fra due giorni Sì Ci vediamo Fra un paio di giorni Ecco Quelli online Ci vedremo Online Perché insomma Potremmo anche Fare domande Sicuramente online E quindi Partecipate anche per questo Siat.org Slash eventi Trovate tutte le indicazioni Grazie ancora Eugenio E buona giornata Grazie Riccardo Buongiorno a tutti Allora Andiamo a fare il riepilogo Di quelle che sono I due strategie in gara Per quest'oggi Squadra azzurra Che con Carlo Vallotto Propone uno short Sull'oro 1777 177 dollari Loncia Il livello di ingresso 1779 Lo stop 1774 Il target Per quanto riguarda invece La strategia La squadra gialla L'abbiamo avuto con noi Eugenio Sartorelli E ha proposto Un long Sul bond In questo caso Il livello di ingresso 171,59 Sopa 171,39 E target 172,15 Vi ricordo Che potete operare Anche voi Sia sull'oro Che sul bond Così come su numerose Altre soluzioni Tra indici di borsa Azioni italiane Estre Metalli Preziosi Materie prime Valute Per l'appunto Anche il bond Utilizzando i certificati A leva Portati sul mercato Italiano Da fondo Bell Certificati Se andate nella sezione Dei prodotti Presente sul sito Trovate proprio Con le diverse Tipologie di strumenti Leva fissa Turbo Cover Warrant Mini Future Sono i prodotti A leva Poi trovate anche Quelli di investimento Ma focalizzandoci Sui prodotti A leva In qualche modo Quest'oggi Andiamo a parlare Dei certificati A leva Short Che dunque Vi permettono Di trarre Giovamento Da eventuali Rialzi O ribassi Delle quotazioni Del loro E tutte le caratteristiche Tipologie di questi strumenti Vi trovate per l'appunto All'interno della sezione Certificati A leva fissa Presente su Certificati Punto Fontabel Punto Com Vi ringrazio Per averci seguito Noi torniamo domani mattina Sempre in diretta streaming Sulla canale Youtube Di Fontabel Certificati Alle ore 10 Grazie ancora Buona giornata A tutti voi Grazie a tutti